Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo per eccellenza, il disfubatore di tutti i giornalisti televisivi italiani e non, si appresta al taglio dei peli del petto e del seno destro e del seno sinistro. Poi ovviamente queste immagini ve le mostro in tolto. Fate attenzione ovviamente se usate l'azioio quando tagliate i peli del seno per evitare il capello. Invece di tagliare il capello. Invece di tagliare il capello. Ok, ok? Ok, ok. Ok, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il seno sinistro, il seno destro, ecco qui il petto depilato. Grazie a tutti. Il distributore TV si ruvi saluta.